Ciao ragazze, eccoci con l'ultimo video del nostro Christmas Ideas Sono stati 23 giorni molto impegnativi, molto faticosi perché ovviamente io lavoro e quindi ci sono state due giornate dove sono arrivata a casa di corsa per girare il video e poi mettervelo in carica per far sì che tutti i giorni uscisse un nuovo video È il secondo anno di fila che faccio questo Christmas Ideas perché me l'avete chiesto e quindi ho cercato di accontentarvi ovviamente con mio grandissimo piacere Spero che questi video vi siano piaciuti, vi possano aver tenuto soprattutto compagnia e vi possano aver magari anche dato ispirazione in quei momenti dove veramente non avevate idea su cosa regalare, cosa realizzare Spero che davvero vi siano piaciuti Io mi sono davvero divertita tantissimo e per me è stato un grossissimo piacere realizzarli Spero davvero di ritornare al prossimo anno con questo genere di video perché mi diverte veramente tantissimo Io con questo video qui voglio farvi veramente tantissimi auguri per un felice Natale Oggi è la vigilia quindi passatela al meglio Domani è Natale quindi un grossissimo augurio passatela con le persone che amate, che volete bene e ci vediamo poi con un nuovo video sicuramente fra pochissimi giorni Io nel frattempo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video Ciao! Buon Natale!